Oggi andiamo avanti con il capitolo numero 7. In un'altra delle mie sedute il soggetto descrisse un gruppo simile di individui altamente evoluti che vissero durante una civiltà antica. Rita, un produttore televisivo, si trovò in un enorme salone con colonne. Il soffitto era una cupola alta 20 metri. I muri erano fatti di meraviglioso alabastro o agata. Anche i pavimenti sembravano fatti dall'abastro con ornamenti geometrici separati da strati sottili d'argento. C'era una lunghissima scalinata di 3 o 4 enormi gradini che davano sul centro della sala, proprio al di sotto della cupola. Questo era il luogo dove le altre 11 donne lavoravano. Questa sala rotonda è un luogo molto speciale dove ci riuniamo per fare uno specifico tipo di lavoro. La cupola è al centro di questo edificio per ragioni energetiche. È qui che invochiamo l'energia attraverso l'intento allo scopo di gestire i campi energetici. E qui faremo un piccolo appunto. Avete sentito cosa detto? Attraverso l'intento. Noi prima intendiamo avere qualcosa, desideriamo. Il nostro intento ci porta a richiamare quella determinata situazione, quella determinata circostanza attraverso l'intento. Lo facciamo sempre, sia che siamo consapevoli o meno, lo facciamo continuamente. Ci viene più facile con il negativo perché ci aspettiamo solo il peggio. Quindi andiamo sul sicuro. Praticamente non facciamo resistenza al negativo. Invece con il positivo stiamo facendo tanta fatica perché siamo talmente tanto legati al risultato, cioè lo vogliamo subito, che facciamo fatica. Ma il negativo ci viene facile, purtroppo. E qui naturalmente parlo di me stessa per esperienza personale. Anche se non sono una persona negativa, ho notato che quando ho iniziato ad aprire gli occhi veramente verso ciò che succede e ciò che significa questa esperienza in tutto e per ho capito che non solo ero ignorante in materia, ma davo la colpa sempre all'esterno, non a me, che intrattenevo quelle idee, quei discorsi interni, quei pensieri. Andiamo avanti. Erano vestite con degli abiti leggeri e fluttuosi, con una corda attorno ai fianchi. Le ricordava i dipinti delle idee classiche. Questi abiti erano di colore azzurro pastello. Aveva una trentina d'anni, capelli rossi scure e pelle chiara. Agli uomini dice non è permesso entrare in questo edificio. Solo le donne fanno questo lavoro. Non siamo l'unico gruppo di donne che fa questo lavoro. C'è un gruppo di donne anziane che lavora con una diversa tipologia di energia. Tutto ciò che so è che ci sono donne anziane che fanno questo e noi siamo le più giovani. C'è un'anziana nel nostro gruppo. Dobbiamo accollarci il lavoro perché è il loro turno di non lavorare duramente. Quando c'è bisogno di diversi tipi di energie raggiungibili con i loro vecchi metodi di conoscenza, allora vengono ad aiutarci. È altamente specifico per il loro linguaggio e metodo di conoscenza. Noi siamo i giovani o la generazione successiva. Ci stanno preparando. Adesso siamo abbastanza vecchie e mature che abbiamo bisogno di una sola assaggia con i capelli bianchi con noi. Inoltre possiamo insegnare alle più giovani. La conoscenza non può andare perduta. Dopo essersi riunite descrisse la cerimonia o rituale che utilizzarono per iniziare il loro lavoro energetico. C'è molta tranquillità. La più anziana letteralmente diede il tono. È una nota. Non so dove sia la sorgente ma lei la sta invocando o sta cercando questa nota nella sala. Questo tono sta oscillando in modo circolare da sinistra verso destra. Invoca la nota e questa determina la frequenza vibratoria nella sala per il lavoro che faremo. Quindi dobbiamo preparare i nostri campi aurici. Entriamo nei nostri campi aurici e creiamo un uovo blu attorno ad ognuna di noi per proteggerci. Ma è più che una protezione. L'uovo blu ci porta in un luogo dove possiamo sentire e vedere più chiaramente. È come un luogo di mutua trasmissione e ricezione. Quindi c'è un nuovo blu riceviamo e trasmettiamo da questo speciale campo di energia che circonda ognuna di noi. Si erano riunite per lavorare su un particolare problema di grande importanza. C'è qualcosa che sta influenzando la vegetazione della regione esterna e c'è sicuramente qualche problema con il sole. sto parlando di qualcosa come delle macchie solari, esplosioni solari e cose di questo genere. In questo momento sulla terra stiamo affrontando problemi di interferenza, qualche tipo di radiazione dal sole che sta colpendo la vegetazione e gli esseri che vivono qui. Sta disturbando il campo energetico di alcuni individui e piante che non riescono ad adattarsi. È molto intenso e stiamo cercando di correggere il flusso d'uscita. Siamo in grado di sentirlo nel campo vibratorio tutto intorno a noi. Pensavo che il sole fosse un oggetto enorme su cui lavorare e a causa del suo potere, non per noi. Non siamo in grado di alterare il sole, ma siamo in grado di ridurre le anomalie del sole che il sole sta avendo sulle persone. Perché sta friggendo, danneggiando e rovinando i campi emotivi di alcune persone. Sembra che l'atmosfera si stia sottigliando perché ogni volta che ci sono eventi straordinari del sole siamo fortemente influenzati e altamente percettibile e inconfortevole per ogni forma di vita, anche i pesci, anche l'acqua. L'acqua è calda. Stavano proseguendo con il loro rituale. Stiamo tutte ripetendo la nostra enorme preghiera e parliamo con gli esseri che intercedono e lavorano tra noi e il sole. Stiamo chiedendo di migliorare l'effetto. Stiamo chiedendo ed invocando un livello di protezione che in essenza è una bolla protettiva per proteggerci da alcuni degli effetti che abbiamo creato. E qui Dolores dice ovviamente volevo sapere di più sugli esseri con cui erano in contatto. E lei mi rispose sono grandi esseri come gli dèi della natura e gli spiriti del sole e tutti coloro che operano nel mezzo. C'è una gerarchia di esseri angelici e divini tra noi e il sole che agiscono in modo cooperativo. Questo permette l'assimilazione delle energie del sole per essere utilizzate ed assorbite nel modo giusto su tutto il pianeta. Qualcosa sta cambiando. È davvero mastodontico. Non so se saremo in grado di continuare a ricevere il loro aiuto in questo modo. Siamo al punto di non ritorno. Sento molta tristezza e il mio intero corpo sta tremando. Siamo sempre state in grado di chiedere aiuto a questi esseri e di riceverlo se potevano offrirlo ma adesso non possono più aiutarci. È un periodo molto intenso. Tutte e dodici erano in piedi in cerchio per invocare la protezione e disse entriamo nelle uova blu o non siamo in grado di operare. È una barriera protettiva tra gli elementi a livello vibratorio qui sulla terra permette a noi dodici di funzionare. Andrà avanti a lungo. Possiamo restare in piedi per molto tempo. Non sentiamo i nostri corpi. Non siamo consapevoli dei nostri corpi. Stiamo chiedendo il permesso di aiutarci agli esseri divini e il permesso di proiettare le nostre energie in ciò che diventerà una bolla che ci isolerà ancora una volta. Non c'è più tempo. Ci hanno dato il permesso molte volte per evitare uno specifico fatto, un evento di tipo catastrofico. Eclisse è una parola prominente qui. Questa è l'eclisse di un evento e io non so cosa significhi. Un periodo eclittico. Qualsiasi cosa questa voglia significare. Ci troviamo in un tempo in cui non siamo sicure che ci permetteranno di continuare ad evocare la protezione degli esseri a causa della paura della gente che vive sul pianeta in questo momento. Adesso le cose stanno cambiando rapidamente e drammaticamente. Tutto viene danneggiato qui e sappiamo che possiamo solo restare in piedi. Chiedere ed accettare qualsiasi cosa che accadrà. Io qui vorrei fare un piccolo appunto perché questo passaggio è molto importante da farvi capire ciò che sta succedendo adesso. Ci troviamo in un tempo in cui non siamo sicure che ci permetteranno di continuare ad evocare la protezione degli esseri. Sentite qua? A causa della paura della gente che vive sul pianeta in questo momento. Allora, quello che volevo farvi capire è che la paura genera energia negativa. Notate una cosa molto interessante. Noi siamo bombardati da informazioni che mettono paura alla gente. Perché a livello collettivo noi produciamo tanta energia negativa a furia di vedere queste cose negative. Ora voi direte, beh, dobbiamo vedere le notizie, giusto? Dobbiamo sapere cosa sta succedendo. Ma quando vedi che viene ammazzata una persona, un bambino, quando vedi tutta quella disperazione nei telegiornali, cosa vorresti, cosa fai in quel momento? Invece di guardare e mandare il loro amore e provare compassione per quelle persone, noi cosa facciamo? Noi ci arrabbiamo, ok? Perché vediamo tanta ingiustizia. E voi direte, e cosa? Non dovremmo arrabbiarci? No. Perché tutte le volte che ci arrabbiamo, se avessimo in quel momento una pistola in mano, saremmo in grado di sparare a quelle persone, ok? Però dobbiamo ricordarci una cosa. Loro lo fanno di proposito. Perché questo provoca in noi reazione. Noi siamo reattivi. La reazione è l'energia negativa, ok? Quello che ci provocano, ok? Quando qualcuno ti provocano e tu sei arrabbiato, ti arrabbi, ecco, in quel momento produci dei campi di energia negativa, bassissima, pesante, ok? E quell'energia negativa non si distrugge. Ricordatevi che l'energia non può essere né creata né distrutta, ma solo cosa trasformata. E come la possiamo trasformare l'energia negativa? Con l'amore. L'unica cosa è l'amore. L'amore è la forza più grande dell'universo. Quindi se noi produciamo energia negativa, questa energia negativa rimane là finché non viene guarita, ok? Finché non viene guarita, cioè trasformata in energia positiva, Quell'energia va e produce campi di energia negativa e produce disastri, ok? Perché comunque è quello che fa. Mi spiego? L'altra sera parlavo con un mio carissimo amico e continuava a dirmi mai visto lì cosa hanno fatto in televisione, mai visto quello, mai visto quell'altro, ho visto, ok? E se ti arrabbi cosa succede? Lo sai che fai più danno se ti arrabbi. Invece guarda sia i carnefici che le vittime con la consapevolezza che stanno interpretando un ruolo e manda loro amore, manda loro compassione e solo così possiamo aiutare il nostro pianeta e noi stessi, solo così. Oppure meditare, pregare per loro, vedere le cose che vorresti che fossero, vederli in pace, vederli tranquilli, mandare il loro amore, perché vi posso assicurare che quando tu hai un pensiero d'amore e lo mandi a una persona che tu vedi adesso in diretta nell'altra parte del pianeta, arriva, istantaneamente arriva. Noi siamo tutti connessi, assolutamente. Noi siamo tutti connessi. esattamente come le 50 trilioni delle nostre cellule. Sono tutte connesse. Ogni cellula del nostro corpo è connessa a un'altra. E tutto questo fa il corpo praticamente. Ogni cellula di questo corpo sa tutto di quello che succede nel corpo. E quando fai del male, quando ti tagli un dito, non soffre solo il dito, ma tutto il corpo. Andiamo avanti. Adesso le cose stanno cambiando rapidamente e drammaticamente. Tutto viene danneggiato qui e sappiamo che possiamo solo restare in piedi, chiedere ed accettare qualsiasi cosa che accadrà. Questo è tutto ciò che possiamo fare. Siamo state molto efficienti nel riuscire ad allontanarlo in passato. Abbiamo già lavorato con queste energie. Non è la prima volta. Hanno lavorato con noi per generazioni e generazioni. Ci troviamo in una diversa durata di tempo, visto che generazioni sono periodi di tempo molto lunghi. Durante le scorse generazioni abbiamo invocato questa stessa protezione. Funzionava in passato, ma siamo arrivate alla comprensione di essere alla fine. Dobbiamo fare ciò che possiamo. Nonostante i loro sforzi fallerano, disse qualcosa di strano che non riuscì a capire. Disse, non possiamo più continuare in questa maniera. Adesso andiamo a letto. Non c'è più nessun'altra procedura oltre a questa. Dobbiamo andare tutti a dormire per un lungo periodo. Le chiesi ulteriori spiegazioni. Voleva dire che erano morte e stavano lasciando il loro corpo fisico? In parte era questo, ma anche altro. Significa che i nostri corpi non possono più sostenere l'impatto di queste radiazioni. I nostri corpi moriranno e dovremmo lasciarli, proprio come tutti gli altri. Ho paura. La nostra realtà sarà consumata da qualche forza che sembra essere una porzione del sole. Andrà tutto consumato e non esisteremo più, così come siamo in questo momento. Sarà la fine di un'epoca. Ma ci vorrà molto, molto tempo prima che saremo in grado di ritornare e ricominciare ad operare. Dobbiamo passare una fase di sonno nella quale dobbiamo permettere che avvengono altre cose. Apparentemente, per tornare al punto in cui eravamo per ricostruire queste era d'oro, resteremo addormentati per molto tempo. Significa che la nostra conoscenza cosciente non sarà ciò che è ora, non sarà ciò che era prima di noi e le precedenti generazioni. Tutto cadrà nel sonno e rimarrà chiuso mentre passiamo attraverso questo ciclo oscuro. E qui faccio un piccolo appunto perché ci dice esattamente ciò che abbiamo fatto. C'è un passaggio nella Bibbia che dice che andiamo a dormire con Adamo e ci svegliamo in Cristo. Il che vuol dire che dormiamo collettivamente, come è successo finora, e ci svegliamo individualmente, ok? Non ci svegliamo tutti, un po' alla volta, praticamente quelli che sono pronti. E quindi noi abbiamo passato un periodo molto oscuro. Può tornare a risvegliarsi al momento giusto. Allora ci saranno altri tempi, luoghi come questo, ma in nuove modalità. Con questi esseri femminili riuniti ancora una volta per invocare tutte le forze e tutti gli esseri divini del sole, dell'atmosfera, della sfera terrestre e del cosmo. Tutti riuniti per lavorare insieme, per tornare ad un'epoca d'oro, come questo alabastro del quale eravamo circondate. Un giorno ci riuniremo nuovamente in una nuova maniera, segnalando il risveglio. Siamo molto tristi. La conoscenza sarà addormentata fino, è quasi come se fosse programmata in noi, che sarebbe arrivato il tempo, proprio come nella bella addormentata di risvegliarsi. E tutto sarebbe tornato meravigliosamente ancora una volta. Apparentemente voleva dire che la conoscenza e le loro abilità umane di usarlo si sarebbero spente per lungo tempo, finché non sarà il momento giusto di riportare sulla Terra queste abilità e talenti. Mi è stato detto che questo accade in Atlantide dopo l'abuso delle abilità. Fu come bruciare un fusibile e la mente umana sarebbe stata incapace di riattivarle fino al momento giusto. Doveva essere inaccessibile per l'umanità. Mi hanno detto che pensano sia finalmente giunto il tempo del risveglio e queste abilità hanno iniziato a riaffiorire in molti umani. So che sta succedendo con la gente che viene da me per una seduta. Uno degli scopi della seduta sembra essere di far loro sapere che avevano queste abilità e che adesso possono riaverle. Dalla sua prospettiva fuori dal corpo sapevo che poteva vedere tutto ciò che era accaduto. Così le ho chiesto di dirmi cosa poteva vedere. Frigge ogni cosa, ogni cosa, nessuna forma di vita può sopravvivere alle radiazioni. Veniamo fritti dalle radiazioni, ma tutto è permeato di questa luce ed energia dorata. Non riesco a comprendere, è tutto finito. Le chiesi degli edifici, non penso che abbia più alcuna rilevanza. Tutto ciò che doveva vivere in quella frequenza, in quella dimensione, tutte le cose che sono delicate, che sono sostenute al giusto equilibrio elettromagnetico, al giusto livello di radiazione, al giusto livello di temperatura e umidità. Proprio ogni forma di vita è sensibile a ciò che c'è dentro quel campo di vita, come lo conosciamo, che include piante e animali, non c'è più. Sta finendo. Poi iniziò ad escrivere ciò che vedeva dopo che si erano calmate le acque. Ovviamente non era la fine dell'umanità perché vide dei sopravvissuti. E' molto oscuro. Ci sono delle persone. E' un luogo diverso. E' una diversa locazione geografica. E' molto più oscuro. La zona sembrerebbe essere come ciò che chiamiamo il Medio Oriente. Forse l'Africa. Sembra simile, eccetto che c'è un maggior terreno tra il Medio Oriente ed Africa. Volevo ulteriori informazioni circa la causa della catastrofe. E quindi disse questo. Stavano sperimentando e giocando. Stavano utilizzando l'energia perché eravamo molto avanzati nella nostra conoscenza dell'energia, della luce, dei poteri, dei cristalli, barra silicone. Eravamo in grado di raccoglierla, eccetto il fatto che stavamo oltrepassando i limiti. Non funzionò in quella zona. Non era il mio lavoro. Ero qui nella zona con la cupola perché ero donna e questo è ciò che facevo. Ma c'erano altri, uomini all'esterno, e a loro fu permesso di lavorare con le energie. C'erano anche delle donne a cui fu permesso lavorarci. Insieme si impegnarono con questi generatori, cristalli e cose del genere. Adesso posso vederli. Lo stanno pompando al massimo. Ma stanno creando dei veri problemi che non siamo in grado di riparare. Inoltre, non funziona bene l'interazione tra ciò che hanno creato e gli effetti delle radiazioni del Sole. Ebbe un effetto davvero devastante. Non c'era modo di fermarlo. Lo crearono e ne abusarono. Perché disturbarono l'equilibrio delle radiazioni in questa zona. Il risultato fu che eravamo totalmente vulnerabili e che non avevamo alcuna barriera atmosferica per proteggerci dal Sole e delle sue radiazioni. In qualche modo, questo interagì con ciò che stavano facendo. Distrussero e evaporarono le nostre barriere protettive perché non dovevamo essere totalmente esposti agli effetti del Sole. Siamo troppo vicini al Sole. Ogni tipo di elementi super sofisticati erano già in presenti per la nostra protezione, ma vennero distrutti. Stavano giocando con il potere originario. Adesso ci tocca tornare nell'oscurità. Adesso ci tocca ripartire tutto da capo. Le chiesi. La tua zona era l'unica sulla Terra dove questo ebbe luogo o c'erano altri luoghi nel mondo? Questa è la ragione e l'area che venne fritta. Tuttavia c'erano alcuni problemi pesanti altrove. Non so nemmeno quanto tempo sia passato. C'è vita, è delicata, è tenue, ma c'è lì nella zona del Medio Oriente e si estende in Africa. C'è della vegetazione, ma non molta. Non c'è nulla di sofisticato. Era molto, tutto molto verdeggiante. Riesco a vedere solo dove mi trovavo prima. Non c'è nulla, è finito. Ma gli effetti ambientali colperono anche altre zone. Non era localizzato in quell'area. Ci vuole molto tempo perché la vita in un certo senso si ristabilisse. perché molte altre aree rimasero colpite. Ciò che era rimasto non era così carino e piacevole. Non erano i luoghi più piacevoli dove voler andare, ma abbiamo dovuto andarci. Non c'è abbastanza verde e non è per niente attraente e secco. Mi stavo chiedendo se questo è ciò che causò i deserti, che sono i più vasti del mondo, a formarsi in quell'area. Potrebbe esserci perché non si è ristabilita alcuna vegetazione. Mentre osservo il futuro c'è molta energia nera ed oscura. Ci sono molte regioni secche, danneggiate e desertiche. Deserti marroni e scoscesi. Non c'è più fogliame, solo qualche piccolo spruzzetto qua e là. Nulla di ciò che era prima. Avevamo piante e piantagioni meravigliose. Era un modo bellissimo di crescerle. Avevamo energia di crescerle in un modo unico, pulito e totalmente meraviglioso. Tutto fioriva dieci volte tanto rispetto ai tempi moderni, senza usare nessun agente chimico. Solo perché sapevamo come usare bene l'energia per far crescere le nostre piantagioni rigogliose ed abbondanti, senza mai debilitare e impoverire nulla. Adesso non riesco nemmeno a vedere come riusciremo a sopravvivere su questa terra scadente. Hai detto di doverti addormentare per un lungo periodo? Sì, e quel potere non si è risvegliato, quella conoscenza non si è risvegliata. L'unica cosa che si è risvegliata erano i nostri corpi e le nostre menti primitivi di sopravvivenza. L'anima è schermata da noi stessi. Non sapevamo nemmeno più cosa fosse l'anima. Quindi siete ripartiti nuovamente in una vita più primitiva? Non primitive come gli uomini di delle caverne. Siamo la gente, gli umani, che ci sono adesso. Ma primitivi nel senso che è un'esistenza disperata, affamata. Non c'è abbondanza, non c'è ricchezza. La conoscenza è perduta, come il cibo e le piante. Non si vedono nemmeno gli animali da queste parti. Sono insettini che strisciano. Solo quelli in grado di sopravvivere gli ambienti più duri sono qui. Tutto qua. A volte ce li mangiamo. Una delle mie ultime comprensioni era che qui avevamo così tanta bellezza e così tanto aiuto. e così tante interconnessioni da così tante dimensioni e regni che resero questa esperienza meravigliosa di una vita gioiosa, abbondante, verdeggiante. Ma non l'abbiamo rispettata. Non abbiamo rispettato tutti i livelli intricati di intelligenza necessari per far funzionare questo luogo come un'entità olistica. In molti tra di noi non rispettavano questo principio perché erano ossessionati solo dall'aumentare. Più potere, il miglior potere. Ci sono presi le sorgenti del cristallino, del silicone, di tutte delle forze elementali. E le hanno pompate al massimo, illusi che più è meglio. Non sono sicura perché pensassero così perché non ero coinvolta nel campo d'energia, nella produzione d'energia come lo erano loro. Dal mio punto di vista ancora non è chiaro esattamente cosa stessero pensando di fare. Avevamo già tutto. Non avevamo bisogno di nient'altro. Non riesco nemmeno a capire perché pensassero che avevamo bisogno di più potere. Ci deve essere stato qualcosa che stavano cercando di ottenere o raggiungere o ricordare, non saprei. Pensi che ci fosse una lezione in questo? Più è meglio. Abuso di energia, abuso di potere, andare contro l'intero ordine devico, angelico, naturale, che era stato meravigliosamente creato per noi. Andare contro a tutti questo congedendolo come se non avesse alcun significato. Perché potere è potere. Puro potere è i loro esperimenti. Per alcuni di loro sembravano essere più importanti che onorare ciò che già esisteva qui e che ci stava proteggendo. Non riusciranno a capire che c'è un potere superiore di qualsiasi rischio avessero potuto concepire. Sembra che stiamo facendo qualcosa di simile attualmente. La storia si sta ripetendo, ma il danno a tutte le anime e agli esseri che erano in vita allora è incommessurabile. Troppo danno, troppa tristezza, uno shock enorme, tristezza, profonda oscurità e danni procurati a quelle anime. Eravamo tutti là in quel periodo ed avevamo accettato di essere in quel momento. Alcuni erano responsabili dei registri, altri c'erano solo per tenere i registri per il momento del risveglio. Altri erano lì per precipitare attivamente l'intero evento e ovviamente non era la cosa più intelligente o saggia da fare, ma è stata fatta e tutti assolsero il loro ruolo esattamente com'è. Sentite questo? Avevamo accettato di farlo al momento dell'incarnazione. Non capisco perché doveva essere così. Doveva esserci qualche tipo di processo che dovevamo affrontare. Non capisco perché mai dovete andare così, ma questo è ciò che fu. Quindi adesso questo richiese il processo che ne seguì. A questo punto chiesi di parlare con il subconscio per comprendere perché avevano scelto di far vedere a Rita questa vita, cosa poteva avere a che fare con la sua vita attuale. E disse questo. Qui il suo cuore è stato colpito, qui l'intera anima è stata danneggiata. Per molti tutto venne distrutto. Qui è dove siamo caduti. Fu uno shock a tutti i livelli. Tutti i livelli. Un assalto all'anima. Ai livelli astrali. Ogni livello di essere era sotto shock. Non c'era il permesso di ricordare perché l'angoscia del sapere ciò che fu creerebbe una profonda depressione nei giorni di non molto che stanno arrivando e i giorni oscuri in arrivo. Ricordarlo non serviva a niente perché sarebbe passato molto tempo prima del ritorno. Il centro del cuore di Rita è stato protetto per troppo tempo e quella stessa protezione ora non è più necessaria. Può riportare a gala le memorie. Questo è un periodo molto importante per tutti. E' interessante vedere che abbiamo nuovamente imparato come crescere le cose e renderle abbondanti. C'è una proliferazione di animali, pianti e tutto il resto ma li stiamo distruggendo ancora una volta. Sentite qua cosa dice questo non può essere tollerato. La scienza c'era uscita di mano all'epoca e gli scienziati giocavano a controllare il tempo e l'atmosfera. Apparentemente fecero qualcosa che ci rese estremamente vulnerabili a livello elettromagnetico. Siamo diventati molto vulnerabili alle influenze del sole e delle sue anomalie. Erano responsabili per questi effetti in qualche modo causarono l'assottigliamento della barriera protettiva contro le radiazioni solari. e il sole sta facendo ciò che può fare se la terra non è propriamente isolata. Questo gruppo di cui faceva parte sapeva che questo uso negativo della natura poteva produrre solo disastri. Provarono ad utilizzare la loro energia positiva per contrastarlo ma non ebbero successo. L'abuso dell'energia creò un enorme buco nello strato dell'ozono. Il potere diretto del sole penetrò l'atmosfera e bruciò la terra in certe zone. Molti milioni persero la vita e il clima non era più lo stesso. Enormi deserti apparvero dove il potere diretto del sole discese sia vita che fertilità non tornarono più in quelle zone. Tutto questo sembra spaventosamente vicino a ciò che sta succedendo nel nostro periodo. Quante volte la storia si deve ripetere prima che l'umanità riesca finalmente a imparare la lezione? La terra è un essere vivente e si ribella se viene sottoposta a troppi danni. Inoltre hai il potere di prevenire se dei patetici mortali pensano di avere il potere di regnarla. E con questo si conclude la seduta di Rita. Io mi fermo qui e domani partiamo da qui. Ciao a tutti. Grazie.